Sono andato a trovare Lidia in via Vigolo dove è stata uccisa, ho portato dei fiori come mi capita molto molto spesso. Lidia me la sento molto più vicina in via Vigolo perché, non lo so, forse perché sono arrivato dieci minuti dopo che era stata barbaramente uccisa o forse perché mi ricordo ancora il telo sopra di lei in mezzo alla strada e quello è il posto dove io sento di più Lidia. Esattamente qui, due anni fa, Lidia Milikovic, 42 anni, venne barbaramente uccisa a colpi di pistola, sparati anche a bruciapelo dall'ex marito che poi si suicidò lungo la tangenziale. Il compagno Daniele da allora si fece a carico dei due figli adolescenti di Lidia, chiedendo aiuto anche alle istituzioni, ma già lo scorso anno aveva denunciato la mancanza di una rete di sostegno efficace. Non ha cambiato assolutamente niente, ripeto, l'enfasi del momento, dell'accaduto, ma poi è tutto un fai da te, bisogna informarsi, bisogna capitare magari nell'ufficio giusto con la persona giusta che ti aiuta, ma se no è tutto un non sappiamo, non si sa, vediamo, è tutto così. Eppure i casi di femminicidio non si sono esauriti con l'omicidio di Lidia, anzi, anche recentemente hanno coinvolto persone sempre più giovani. Per questo ulteriori strumenti di prevenzione sono stati introdotti nei tribunali e nelle caserme delle forze dell'ordine. Sicuramente sono cose che servono e devono essere fatte, però devono essere fatte in determinati modi, non con sufficienza come spesso mi capita di vedere o di aver notato anche nella storia di Lidia. Può essere che adesso dopo Lidia, dopo Giulia, dopo tante altre magari è diventata una cosa più sentita, ma bisogna fare di più. Bisogna anche lì che ci siano degli uffici preposti, perché se io vado a fare la denuncia che mi hanno rubato una macchina è una cosa, se io vado a fare una denuncia perché qualcuno mi ha violentato, mi ha picchiato, mi vessa, mi fa terrorismo psicologico, ci deve essere un altro tipo di approccio con la vittima. Restano immazzi di fiori bianchi, oggi accanto alla targa che ricorda Lidia, un sassolino a forma di cuore accanto al volto della donna, il cui sorriso illuminò le vite di tanti. Lidia era tutto quello che un uomo può desiderare, un uomo, un figlio, perché era veramente una persona speciale, ma non perché non c'è più, perché è realmente così, era una persona speciale.